Catanzaro Avellino finalmente ci siamo, la partita che Viverini ieri rispondendo a una nostra domanda ha definito appunto la madre di tutte le partite. Questo perché? Perché comunque la prossima settimana si andrà a giocare nel derby al Crotone, lo scontro diretto. Il vantaggio che il Catanzaro ha sul Crotone di 12 punti per assentarsi all'uscida con lo stesso vantaggio mette sicuramente una buona ipoteca sulla promozione alla Serie B. C'è comunque prima da affrontare un Avellino che arriva a tre sconfitte consecutive, arriverà a Catanzaro con tanta rabbia. Viverini ieri tra le altre cose in conferenza stampa ha voluto ricordare che i risultati falsi comunque non corrispondono alla vera forza di questo Avellino. Ha tutte le ragioni, soprattutto dopo il calciomercato invernale. Ci aspettiamo qui a Catanzaro comunque sia, come dicevo prima, un Avellino ferito, un Avellino che vorrà dimostrare di non fare una comparsa davanti a una grande cornice di pubblico. Il Ceravolo sembia quasi verso il sold out per quella che è la disponibilità allo stato attuale dell'impianto di Catanzaro. Sono già stati staccati in prevendita poco o meno di 10 mila biglietti, circa 200 tifosi arriveranno da Avellino. Quindi sarà una partita nella partita tra due tifoserie tra l'altro che hanno sempre dato spettacolo sugli espalti. Da Catanzaro ci auguriamo che il Catanzaro possa fare risultato pieno perché appunto, come si diceva prima, si andrà a Crotone. Tra l'altra cosa la trasferta sembrerà essere vietata ai tifosi del Catanzaro, quindi ancora c'è molta più attesa qui appunto per questa partita di oggi.